ben ritrovati a tutti cari amici dopo il video di poco fa sul tennis concludiamo quest'altra bellissima giornata di sport parlando del campionato primavera team serie a 1 2020 dove questo in questo primo pomeriggio alle 14 e 30 si è disputato il posticipo della giornata numero 17 gara tra Sampdoria e Chievo terminata sul 2 a 2 primo tempo che si è chiuso a pannaggio dei Doriani nonostante il vantaggio lampo diciamo dopo due minuti di rovaglia per il Chievo il pareggio altrettanto immediato dalla Sampdoria con Balde e il momentaneo vantaggio 2 a 1 casalingo di D'Amico e nella ripresa ancora una volta rovaglia l'ha messa dentro per chiuderla definitivamente 2 a 2 nonostante poi tre campi per parte segno x quota buona quota ottima 4 e 0 5 4 e 15 in classifica al momento quindi la Sampdoria si continua a essere in gossa per un posto al sole nel playoff sesta posizione 24 punti secondo pareggio di fila però terzo nelle ultime cinque il chievo rimane ultimo secondo pari di fila terzo nelle ultime cinque sedicesimo posto per il clivenze a 12 punti chievo che sarà impegnato tra cinque giorni in casa contro il pescara quattordicesimo a 12 punti mentre il chievo tornerà in casa come la Sampdoria tra cinque giorni dove affronterà il bologna che occupa la dodicesima posizione a più uno della zona calda dei play out quindi chiudiamo ribadendo pa posticipo giornata 17 serie a team primavera Sampdoria under 19 contro il chievo under 19 2 a 2 grazie per l'attenzione anche per quest'oggi a domani ciao